Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mbarriole Esattamente, se non sbaglio, è la quarta puntata di Mbarriole Benissimo, oggi vi farò vedere come si gioca Tekken 6 su PSP Benissimo, allora, innanzitutto vi faccio vedere, ecco qua Tekken, Tekken 6 Poi come giochi ho Spider-Man Poi il mitico GTA, ovviamente Allora, vi faccio vedere Tekken Via Bellissimo Tekken 6 Prendo un personaggio che a me piace Facciamo una battaglia sfida Sopravvivenza Così faccio vedere come si gioca Tekken 6 PSP, che è bellissimo Allora Ne abbiamo un sacco Abbiamo da Anna, Giulia, che mi c'è anche un sacco Giulia, Lau, Bruce, Steve, Lee Harry, Edward, Leila, Zafina, Miguel Eccoli qua Io prendo Miguel Miguel Condor, 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 Warrang Faccio vedere come si combatte Se insisti Io la chiamo Quello dell'esempio delle stesse mosse mamma uova il scemo ma neanche qua ecco seconda battaglia contro l'ars mi fa un'antipatia appunto di quelli proprio fighettini proprio deficienti che non capiscono niente è una mazza che è un discorso praticamente tu non glielo puoi fare invece Michele mi sa di uno molto uomo vissuto all'avuso non lo so chi però molto mi piace mi piace un sacco tipo anche senza dirà le scorpione magari K.O. ecco continua così e finirai per ucciderti oh contro Alisa oh Arisa per gli amici questa proprio è bestia non voglio ferirti che cavoletto ma te so non voglio ferirti in un combattimento è ovvio che mi ferirai no? c'è veramente ma l'intelligenza qui c'è un sacco a me dare i palci con questa mossa quasi sempre Ringo appunto K.O. e dire che mi sono appena confessato un figlio dai faccio vedere l'ultimo così vi dodo diciamo un po' un inseguo cos'è come si gioca a a Tekken Tekken con PSP che è davvero una cosa straordinaria oh ma che è ecco muove bene ragazzi vi saluto e mi raccomando guardate la prossima puntata di Bagaiole vi aspetta qui su PSP grazie a tutti